Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video, qua è Tony, vi parlo da Dubai, ci sono 32 gradi e oggi faremo il tour della casa che ho preso con il mio team, con il team della Wolf Academy la mia accademia perché siamo trasferiti a Dubai per fare delle cose, poi comunque penso che a lungo termine rimarremo qui e quindi ora breve tour, check della casa, purtroppo alcuni membri del mio team sono andati a sbrigare dei servizi direttamente a Dubai perché noi abbiamo preso una casa in una villa residenziale in una schiera di ville di Dubai quindi il mio team è fuori, hanno lasciato giusto una macchina poi per raggiungermi, sono rimasto con alcuni membri allora qui abbiamo una McLaren Soft di uno dei miei collaboratori che mi ha gentilmente lasciato per andare a Dubai e poi raggiungerli questa è la nostra villa dal valore di circa un milione e mezzo di euro, almeno da quello che ha detto il proprietario che abbiamo rentato questo è questo, questa è l'entrata, qui ci sono tutto, qui si accede al garage da dietro qui ci sono tutti i nostri passaporti, le nostre cose, qui c'è la cucina perché siamo arrivati a luna di notte abbiamo mangiato qualcosina, qui è stato un pochino un po' più difficile qui c'è la cucina, qui c'è il frigo, qui ci sono alcuni membri del mio team che stanno parlando qui il televisore ha 70 milioni di pollici, playstation incorporata che non useremo mai qui c'è la nostra segretaria che sta rilassando poi qui abbiamo una bellissima area relax, una bellissima piscina, questo è il retro della casa anche di notte è molto molto bello in realtà perché c'è una bella atmosfera e come vedete queste sono schiere di ville fuori da Dubai, a 40 km da Dubai qui abbiamo fatto un piccolo aperitivo ieri sera siamo arrivati molto 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 tardi e questa è la nostra casa poi ora vorrò vedere sopra questo è tutto il giardino, ovviamente anche da là dietro c'è il giardino ora andiamo al piano di sopra saliamo le scale questa è la nostra stanza, questa è la mia stanza dove dormo qui qui c'è un bellissimo bagno, eccolo qua qui ovviamente un bellissimo balcone con vista a piscina, sulla nostra piscina privata vedete qui tutte le ville residenziali di Dubai le mie valigie, le mie cose vi faccio vedere una bella cosa ecco qua poi andiamo avanti qui dormono alcuni membri del mio team qui c'è un altro bagno qui dormono due membri del mio team qui in questo divano letto ci sono altri due membri del mio team e poi qui un balcone e lì abbiamo una bella Maserati del nostro vicino il tour della casa è stato questo la casa è molto molto tranquilla ora penso che ci andiamo a fare un bagno per raggiungere il resto del team a Dubai sei pronto? carica un metro ok, dai bene signori questa è la nostra casa poi faremo sicuramente altri video vi mostrerò anche le macchine perché abbiamo preso la mia arriverà questa sera perché stanno facendo il cambio dell'olio infatti come detto sto con l'utilitaria del mio team di uno del nostro team e niente direi che per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti se la nostra casa di Dubai vi piace perché in realtà è molto molto bella è molto riservata fuori periferia non nel casino insomma molto molto carina è soprattutto bella direi che per questo video signori è tutto mettete un bel mi piace ci sentiamo e ci sentiamo al prossimo video ciao